Buongiorno, sono Giovanni Botte della Fisa Scarpinata. Faccio un'avviso importante a tutti gli operai dell'Aparteno. Visto e considerato che stanno offendendo la nostra degnità, la nostra persona e il nostro misero stipendio, mi raccomando, abbiamo bisogno di forza umana. Correte tutti sotto al MIU, fuori alla Marina. Vi lascio dire che abbiamo fatto un percorso sotto gli uffici dell'Amanità, sotto al MIU, sulla bellezza di 4 o 5 chilometri. Li abbiamo fatti a piedi, proprio per dimostrare che noi non siamo d'accordo. O si mette tutto a posto con questo consorzio umanità, o si fa via, perché non noi possiamo più. Vi ringrazio, cercate di percorrere. Grazie. E nel frattempo, altri nostri colleghi, quando facevano un percorso di 4 uova da piedi, ci hanno occupato gli uffici del MIU. Ok? Stanno lì sopra, li vedete? Ci manca solo l'Aparteno, stiamo soltanto lì al giro. È una vergogna però questa, è veramente una vergogna. E ci sono colleghi che stanno pensando senza offesa, stanno pensando di pulire i banchi per gli esami, di pulire le scuole per gli esami. Ma che stiamo scherzando?